È iniziato alle 22 di sabato 4 agosto con l'uscita dell'ultimo turno il presidio permanente dello stabilimento Bekert di Filine. La fabbrica adesso è chiusa per fere e lo sarà fino al 19 di agosto. Ma non sono fere uguali agli altri anni, questi del 2018 per i lavoratori. Sulla testa di tutti pende la spada di Damocle, annunciata dalla multinazionale belga, della chiusura e dei licenziamenti. Il presidio, come detto, è permanente H24 ed è stato allestito allo scopo di evitare da parte di Bekert qualsiasi atto ostile nei confronti dei lavoratori, come lo svuotamento dello stabilimento che determinerebbe una chiusura definitiva dell'attività. Intanto però la trattativa va avanti. Domani, martedì 7 agosto, il tavolo si sposta in Regione. L'incontro in Regione è quello procedurale. La prima fase dei 45 giorni in sede sindacale finiscono domani. Si apre la fase istituzionale di 30 giorni. Ci tenga a precisare l'incontro di martedì. Sarà un incontro importante perché ci presenteremo al tavolo con la compattezza ritrovata dal punto di vista sindacale. Noi abbiamo sempre avuto fermezza nel dire no ai licenziamenti, sia a trattare, ma a trattare in una condizione di pari dignità. C'è da dire una cosa che secondo me è passata un po' in sordine e non sempre emerge. Qui non si sta parlando di un'azienda che non ha lavoro. Si sta parlando di un'azienda che il lavoro ce l'ha e ce n'è anche tanto. Addirittura è in crescita nel 2018 il settore dello steel cord del 2,8% nell'area Europa. Ma siamo di fronte ad un'azienda che decide di spostarlo in Romania dove costa meno. Quindi non siamo di fronte a una classica azienda in crisi come drammaticamente abbiamo visto negli anni anche in questo territorio. Siamo davanti ad un'azienda che avrebbe non solo da lavorare ma da far lavorare anche molto più dei lavoratori che ci lavora dentro, ma che si decide di spostare da un'altra parte. Questo per noi è inaccettabile. È inaccettabile quindi impostare la trattativa sui licenziamenti. Prima licenziamo e poi trattiamo. Noi siamo per fare una trattativa vera dove dobbiamo immediatamente sospendere i termini. Martedì in Regione chiederemo di sospendere i termini e se questa sospensione avverrà e se riusciremo Martedì a spostare l'orologio oltre il 4 settembre sarà per merito di chi ha tenuto una posizione ferma in trattativa e per i lavoratori che hanno respinto la proposta che era indecente. Questo è un presidio che non blocca il cancello ma è un presidio di vigilanza rispetto alla fabbrica. I camion possono entrare e possono tranquillamente uscire. Tutto quello che è stato montato è assolutamente spostabile in 30 secondi quindi i cancelli sono assolutamente liberi.